La sfida più bella è quella di crescere in maniera organica e in maniera sostenibile, sia dal punto di vista strutturale della nostra azienda. Oggi conta solo negli Stati Uniti più di 3.000 persone che lavorano per noi e questo sicuramente non è facile da gestire alla velocità che noi andiamo. Gestire le risorse delle nostre produttori, che sono risorse a volte illimitate anche dal punto di vista produttivo, ma ritengo che in Italia ci sia e nel mondo così tanto cibo di qualità in venduto che questo problema si porrà un pochino più avanti. Cos'altro? Naturalmente il fatto di essere sempre innovativi, di essere sempre un pezzettino più avanti degli altri, ma questo penso che riusciremo a farlo.